E come vedete non sarà una passeggiata e ci sono molti elementi di difficoltà, chiamiamoli così. Poi c'è l'aspetto italiano, si aspettava fino a oggi che ci fosse il colpo di scena e tutti indicavano il possibile colpo di scena come un sì alla fine di amicizia, di fiducia e di fratelli d'Italia alla von der Leyen. È andata in maniera completamente diversa, Meloni ha provato a spiegarlo ma non c'è solo quello. Fratelli d'Italia ha deciso di non votare per la riconferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Siamo rimasti coerenti con la posizione espressa nel Consiglio europeo di non condivisione del metodo e del merito. Il dilemma di Giorgia Meloni sì o no al secondo mandato per Ursula von der Leyen deve essere stato più che amletico se ci ha pensato fino all'ultimo arrivando a posticipare la comunicazione della sua scelta a giochi fatti e schede contate, parlando da Oxford e provando a mettere le cose in chiaro. Una cosa è il partito, una cosa è l'Italia. Non ho ragione di ritenere che la nostra scelta possa in alcun modo compromettere il ruolo che verrà riconosciuto all'Italia nella Commissione europea. L'Italia è un paese fondatore, la seconda manifattura, la terza economia d'Europa, con uno dei governi più soliti tra le grandi democrazie europee. Ed è sulla base di questo e solo di questo che si definisce il peso italiano. Il no lo aveva sicuramente anticipato all'interessata. Hanno rapporti corretti, scommette il luogotenente della Premier a Strasburgo, Nicola Procaccini, incaricato con il collega Carlo Fidanza di motivare prima alla stampa il voto contrario dei 24 europarlamentari meloniani. Attenzione insieme agli auguri tardivi di buon lavoro alla neoeletta che non attenuano l'esprezza dello strappo dopo un negoziato fra Meloni e von der Leyen che comunque si è dipanato nelle settimane precedenti, fra programmi e commissari. Ha scelto i verdi, ha guardato a sinistra, twitta, fidanza, non ha tenuto conto delle scelte degli elettori alle europee. Oggi è così, ma poi capirà che l'Europa è andata a destra, aggiunge Procaccini. Argomenti in scia con quelli delle altre destre, il gruppo dei patrioti di Orban, Bardellà, Salvini, che hanno dichiarato da giorni anche oggi il no, sfidando la Premier. Impossibile insomma resistere al drappo rosso degli avversari a destra, presenti anche nello stesso gruppo dei conservatori e riformisti, che Meloni guida e che, all'ombra della libertà di coscienza, comunque con poca eccezione, si sono messi fuori dalla maggioranza Ursula. Non è piaciuto neanche l'attacco di von der Leyen a Orban, alla sua missione a Mosca. Fratelli d'Italia aveva del resto votato contro la censura al Premier ungherese, non più tardi di ieri, un primo segnale. L'entusiasmo dei verdi, tradotto nei voti che hanno messo in sicurezza la rielezione, rendendo inutile il supporto dei Meloniani, ha chiuso il cerchio e spinto la Premier a privilegiare le vecchie coerenze. Mai con i socialisti aveva detto non sufficientemente ghiutte le offerte di von der Leyen, il Vicepresidente alla semplificazione, il Commissario al Mediterraneo, l'enfasi sul lato sud del problema migratorio. Il segnale di una diversa e inclusiva considerazione di Meloni e del suo atlantismo rispetto agli altri leader delle altre destre. Deluso il Vicepremiere e Vicepresidente del PP e Tajani, che diversamente dagli alleati ha ovviamente votato per von der Leyen e che aveva sperato di convincere Meloni. Unica debole consolazione per la maggioranza italiana alle divisioni dell'opposizione italiana. Sì del PD, no dei 5 Stelle, sì dei Verdi, no della Sinistra. Ma non saranno loro a fare i conti con le possibili ripercussioni dello strappo, quelle che Meloni vuole evitare, atteggiamento sui conti italiani, distribuzione dei commissari e delle deleghe, trattative a questo punto fra governi che avranno solo in seguito la ratifica parlamentare dopo l'estate che farà forza e chiarezza sul duello americano.